Merda, cazzo, culo, vaffanculo, cazzo figa culo tette Barbara Streisand Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e avete appena assistito al metodo più semplice per ottenere un bel bollino giallo che limita gli annunci sul proprio video su YouTube Sì perché, non so se lo sapete, non so quanto siete pratici di monetizzazione su YouTube Ormai da diversi mesi, quando si va a caricare un video e si ha la monetizzazione attiva sul proprio canale c'è un modulo di autocertificazione per verificare se il contenuto che si sta caricando è adatto o meno a tutti gli inserzionisti e quindi ci sono delle voci da selezionare per capire se stando all'onestà di questa autocertificazione il video avrà gli annunci limitati, il bollino giallo, oppure sarà adatto a tutti gli inserzionisti che magari non vogliono che il proprio annuncio venga accostato a contenuti volgari, violenti e quant'altro ed è secondo me una cosa giusta dal momento che ormai da molto tempo YouTube si sta spostando sempre di più verso il family friendly, giusto? In teoria sì, ma ultimamente è successa una cosa che mi ha lasciato abbastanza sbalordito Qualche giorno fa sotto un mio video, non ricordo neanche quale in realtà, ho trovato un commento in cui un utente diceva ma non capisco perché ho già beccato due annunci di pubblicità di siti porno qui su YouTube e in risposta gli faceva ecco un altro utente che diceva è incredibile, anche a me è già capitato tre volte, non capisco che cosa stia succedendo Al che io sono rimasto abbastanza interdetto e ho pensato va bene uno che magari ha frainteso ma se poi sotto a quello stesso commento ne arriva un altro che dice è vero, è successo anche a me allora vuol dire che forse c'è qualcosa che non va allora sono andato a guardare un po' su internet ed effettivamente ci sono diversi articoli che riportano alcune segnalazioni di utenti circa degli annunci a inizio video che mostrano immagini abbastanza esplicite ed inequivocabili e io ci sono rimasto veramente male sono non tanto siti pornografici quanto invece app mette presente quei giochi per smartphone dove devi fare delle scelte per conquistare la protagonista di turno ecco, il problema è che le pubblicità di queste app mostrano delle immagini che sono abbastanza spinte veri e propri accenni a rapporti sessuali dove gli attributi sono censurati oppure magari non si vede niente a livello di attributi sessuali ma comunque quello che i personaggi fanno è abbastanza inequivocabile ce n'è addirittura una ho visto con un tizio che ha piegata davanti a sé una ragazza di cui tiene i capelli e lei ha un'espressione goduriosa ora, già solo per aver descritto questa immagine questo video a prescindere dalle vulgarità che ho voluto inserire all'inizio per dimostrare qualcosa che adesso vi spiegherò sarebbe da demonetizzare oppure da assegnargli un bollino giallo quando gli annunci sono limitati significa che molti annunci non partiranno e praticamente la monetizzazione del video scende a zero questo significa che magari uno ci ha messo ore per produrre un video che non gli permetterà di guadagnare ok? se io inserisco vulgarità nel titolo o all'inizio di un video avrò un bollino giallo e se io compilo in maniera disonesta l'autocertificazione di cui parlavo prima e magari ho inserito vulgarità all'inizio di un video ma io seleziono la voce vulgarità lievi posso anche avere una cattiva reputazione per quanto riguarda la compilazione dell'autocertificazione che può avere delle conseguenze a livello di monetizzazione se sbagli frequentemente l'autocertificazione vengono presi dei provvedimenti che possono portare alla lunga anche alla disattivazione della monetizzazione del canale per cui bisogna essere il più onesti e autocoscienti possibile quando si compila quella piccola autocertificazione all'inizio del video io ad esempio ho capito che le mie recensioni incazzate che sono infarcite di volgarità non le posso effettivamente monetizzare perché inizialmente le avevo monetizzate il bollino diventava verde e poi diventava giallo e mi si abbassava la reputazione allora ho capito che non posso farlo è successa però una cosa strana ad esempio con la recensione di lockdown all'italiana ho molto onestamente segnalato le varie vulgarità la monetizzazione è stata limitata poi spontaneamente dopo qualche ora il bollino è diventato verde hanno deciso loro che poteva essere adatto a tutti gli inserzionisti non ho capito bene il perché ma va bene uguale la recensione di Borat ho dovuto limitarla perché descrivevo le volgarità che c'erano nel film e tutto questo mi sta bene nel momento in cui YouTube decide di prendere una direzione family friendly ma se poi mi trovo delle pubblicità dove si vede una tizia messa a pecora con il tizio dietro che le tira i capelli oppure la foto di un tizio in vasca da bagno con il bollino con il divieto e il numero 18 in corrispondenza ai genitali e una tizia che lo guarda volutuosamente che sta ficcando la mano nell'acqua è un po' le balle mi girano perché ad esempio io per la recensione di Natà di Vacanza su Marte ho speso molto tempo e energie io, questo è il mio caso specifico quando faccio i video incazzati dovete sapere che io non faccio per finta cioè semplicemente canalizzo la rabbia e so che mi posso lasciare andare ok? e quindi finito di registrare io solitamente devo sdraiarmi ma prima mangiarmi un tramezzino io mi preparo un tramezzino prima di registrare che mangio dopo perché mi prosciuga le energie sono cazzi miei direte certo ma tutto questo sforzo che poi si ripercuota nel montaggio perché il montaggio di quelle recensioni non è quello classico ci metto parecchio a montarle è tutto volto a creare un prodotto che per me non è un prodotto che mi fa guadagnare dei soldi spendo tempo e energie e lo faccio perché mi diverto perché so che a voi piacciono so che la recensione di Vacanza su Marte me l'avete chieste in tanti e so che l'attendete quindi ci ho messo tutto il cuore e la passione sapendo di non poter monetizzare perché? perché YouTube ha preso una direzione dopo tutto quello che era successo con l'apocalipsa che si era accorta che molti creator producevano contenuti che non erano adatti a tutti gli inserzionisti e gli inserzionisti si trovavano il proprio prodotto associato a qualcosa che non era in linea con quel prodotto magari molto spesso quindi sono diventati più fiscali lo accetto ma nel momento in cui vedo che partono pubblicità del genere io penso scusate ma allora perché io devo stare attento a non dire cazzo vaffanculo non posso fare l'analogico la merda all'inizio del video perché se no me lo demonetizzano e poi però vedo roba del genere pare sia stato un errore ora capisco l'errore ma questa cosa sembra andare avanti da parecchi giorni cioè queste poi non è un solo non è una sola app da quello che ho visto io ho visto degli screen che sono di più di un'app di questo tipo che poi non sono app che al loro interno contengono effettivamente quel tipo di contenuto è un contenuto clickbait se vogliamo perché lo sappiamo il sesso fa gola a tutti e a maggior ragione tu vedi un annuncio del genere su youtube e dici ma che cos'è ci clicco sopra è una cosa talmente inusuale che dici ma che è una roba pornografica ci clicchi sopra e poi scopri che in realtà sono app con giochi che sono praticamente dei dating game che non sono particolarmente volgari è solo la thumbnail con cui vengono pubblicizzati a essere volgare di natura esplicitamente sessuale per attirare persone nei confronti di quell'app probabilmente è stato un errore sì può essere che sia stato un errore mi sembra molto strano però capite che magari io magari io metto gli annunci limitati ma li attivo comunque perché dici vabbè magari qualcosa ti entra lo stesso e poi magari tra quegli annunci c'è la pubblicità pseudo porno e mi girano un po' le balle onestamente se permettete da persona che vive di questo sono abbastanza allibito a quest'idea cioè a questo punto io vorrei poter fare una specifica domanda a youtube e mi aspetto una specifica risposta posso dire cazzo dici dici ora io so che gli errori possono succedere quindi non voglio stigmatizzare questa cosa non voglio iniziare a dire guarda cosa fa youtube però caspita un errore abbastanza multiplo su più di un'applicazione di questo tipo ci sono stati tanti casini per quanto riguarda la questione family friendly la questione del coppa eccetera bisognerebbe avere una presa molto forte su cose come questa perché poi è logico che le persone che con la piattaforma ci lavorano si risentono ripeto a me sapere che io magari ho un video su cui ho investito tanto a livello di tempo a livello di energie che non posso monetizzare me lo faccio andare bene e poi vedo queste cose qui non vuole essere un discorso venale un discorso sul fatto che io voglio i soldi a tutti i costi io delle visualizzazioni e di cose come queste mi sono sempre sbattuto alle balle cioè quando ho visto che ad esempio la recensione di 13 ha avuto gli annunci limitati mi si è abbassata la reputazione per quanto riguarda la complicazione della tua certificazione non ho pensato ma avete questi qui ma pensate ho detto ah ok allora eviterò d'ora in poi di segnalare come adatta a tutti le recensioni di questo tipo me ne sono fatto una ragione e non è che ne avete viste di meno per quel motivo perché potrebbe anche starci che magari una persona che lavora con questo pensi ma cosa mi metto a fare una recensione del genere sapendo che tanto non ci guadagnerò nulla io me ne sbatto le balle la frequenza è rimasta la stessa io ne faccio uno ogni tanto e solo quando ci sono effettivamente dei presupposti cioè io non mi metto a fare una io potrei voi lo sapete io questo canale lo potrei trasformare in un canale di sole recensioni ne faccio uno ogni due settimane mi fa le mie 60 70 80 100 mila visualizzazioni e io vivo tranquillissimo non lo faccio perché non è quello che voglio fare quindi quando c'è un prodotto che mi ispira quel tipo di recensione io faccio quel tipo di recensione e se non posso guadagnarci dei soldi pazienza perché non lo faccio per i soldi è vero che ci lavoro con queste cose lo faccio per il contenuto lo faccio perché so che a voi quello piace e perché comunque quella quell'incazzatura che vedete è spontanea io non la carico ma magari faccio un po' di teatro in alcuni momenti dicendolo anche ma poi per il resto il sentimento è quello e il punto è che a me va benissimo nel momento in cui c'è la trasparenza in entrambe le parti ok io accetto questa cosa ma poi voglio vedere che questo tipo di direzione viene rispettata in toto perché se no altrimenti io voglio poter dire cazzo è merda quante volte voglio senza aver paura che mi demonetizzino un video per cui ci ho messo tantissimo tempo tantissime energie è una questione di io faccio così e io rispetto quel regolamento però devi rispettare anche tu lo stesso regolamento che imponi perché se no quindi errore o no ripeto non si è capito se è un errore non si è capito nulla sarei fatto che la cosa mi ha lasciato da creator da persona che lavora con questo un pochino interdetto volevo fare chiarezza su una situazione che sta iniziando ad uscire e volevo parlarne in maniera più costruttiva possibile non vuole essere un attacco a youtube sarai stupido visto che è la piattaforma che da anni mi dà da mangiare sarebbe sciocco quantomeno quindi semplicemente volevo spiegare una situazione perché probabilmente si tratta di un errore una qualcosa di sfuggito al dovuti esami di idoneità può succedere ma mi ha un attivino lasciato stranito tutto qui quindi io vi dite scrivo in un conto di sotto cosa ne pensate voi di questa faccenda io vi abbraccio vi ringrazio questo è tanto ma tanto è bene e noi ci vediamo al prossimo buon vlog ciao